A Teramo l'assessore regionale delle politiche sociali Pietro Quaresimale ha annunciato che presto saranno erogati 7 milioni di euro alle aspe abruzzesi. Si tratta di contributi straordinari che la giunta regionale ha voluto erogare per venire incontro alle maggiori spese che le aziende hanno dovuto sostenere per lo stato di emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Di questi fondi molto attesi oltre 3 milioni saranno versati nelle casse dell'azienda servizi alla persona di Teramo che ricordiamo gestisce diverse strutture e che negli anni ha registrato numerose problematiche. Sono fondi straordinari che ho voluto fortemente, ringrazio la giunta regionale perché le aspe abruzzesi stanno vivendo un momento molto particolare che conoscete benissimo, in particolare l'aspe di Teramo. Si tratta di una nota finanziaria importante di 7 milioni, di cui 3 milioni per l'aspe di Teramo. Voglio ricordare che già c'è stato un altro finanziamento di 3 milioni per le aspe abruzzesi, di cui 1 milione per Teramo. Adesso dobbiamo avviare le procedure. Ieri in giunta abbiamo approvato l'avviso che sarà pubblicato e prevede i criteri per l'orogazione di questi fondi. Secondo quanto stabilito dalla giunta, i contributi ad ogni singola aspe verranno segnati in proporzione al numero dei posti letto certificato da ciascuna azienda. Tra le buone notizie questi fondi porteranno allo sblocco degli stipendi per i dipendenti della casa di riposo di Civitella del Tronto. Finalmente abbiamo un piano industriale. Stiamo rivedendo con la collega Verì l'adeguamento delle tariffe perché l'indebitamento che abbiamo trovato e stiamo cercando appunto di ripianarlo è dovuto al fatto che dal 2000 non sono state mai adeguate. Quindi questo ente mensilmente accumula debiti. Però vogliamo dare un segnale importante, l'abboccato d'ossigeno, solamente 3 milioni che hanno permesso anche di sbloccare gli stipendi della casa di riposo di Civitella. Quindi siamo tutti più tranquilli. Adesso dobbiamo un attimino accelerare la burocrazia che spesso rallenta l'erogazione perché si trattano di fondi FSC che hanno appunto una procedura particolare che va rendicondata prima della liquidazione delle somme.